Per Alpi Salò 1-2, il tuo gol ha di fatto deciso la gara, i secondi di tre punti, quindi si sale a quota 6, è il tuo primo gol in stagione. Sì, sono contentissimo prima di tutto per il risultato, è stato un risultato importante in un campo difficile. Loro ci hanno aggrediti fino all'inizio, hanno stato bravi a tenere botta e poi arrivo a dire a recuperare il risultato. Poi il mio gol finale è stato una bella cosa per me, perché è il mio primo, quindi spero il primo di tanti e sono felicissimo. Adesso c'è una settimana con ancora diversi impegni, c'è il derby, poi ci sarà la partita con il Gubbio, però ovviamente ci si concentra solamente sulla gara contro Nomezzani. Partita dopo partita, adesso abbiamo una finale martedì e poi un'altra finale sabato. dobbiamo andare tutto, già recuperare le energie mentali più che fisiche per martedì e riuscire a vincere per portare a casa questo possibile.